Buona giornata, buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è sabato 11 novembre 2023 e si festeggia San Martino di Tur, oggi è una giornata dedicata a questo santo molto molto noto. Era stato il fondatore del monachesimo in Francia, visse nel IV secolo. In realtà era nato in Pannonia, l'odierna Ungheria, ma aveva viaggiato molto, da piccolo si era trasferito con i suoi genitori a Pavia, poi aveva viaggiato molto anche in Francia. Era stato a Damien, a Poitiers, a Ture, di cui poi è diventato vescovo. Ebbene, l'episodio più famoso di San Martino, conosciuto da molti, è quello della divisione del suo mantello, dato a un povero incontrato per strada, mentre lui era a cavallo. Il povero non aveva, era quasi ignudo, sentiva freddo e lui è sceso da cavallo, ha diviso il suo mantello e ne ha dato metà. Questo è un episodio per evidenziare la propensione verso la carità di questo santo, un santo molto umile e caritatevole. Ed ora passiamo alle previsioni del tempo e vediamo che la giornata di oggi, tutto sommato, è una giornata bella. Infatti vediamo il sole che si è sparso un po' su tutto il territorio regionale. Tempo in miglioramento oggi, dopo le residue piogge notturne, con un cielo sereno, poco nuvoloso, per tutta la giornata. Sulle coste i venti ispireranno da nord-ovest, nell'interno invece da ovest le temperature, l'8 la minima, l'18 la massima. Ed ora apriamo il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo il titolo di apertura. Il titolo di apertura si riferisce all'incontro che la Regione Marche ha organizzato ieri a Fano, nella Sala del Gonfalone, dove il Presidente della Regione, Francesco Acquaroli, e l'Assessore all'Urbanistica Stefano Aguzzi hanno presentato le nuove norme che caratterizzeranno l'attività urbanistica per i prossimi anni, norme che dovranno essere approvate dal Consiglio regionale entro la fine dell'anno. Conciliamo Economia e Paesaggio, è il titolo. Acquaroli rassicura sull'Urbanistica, presentata la proposta di legge regionale, Aguzzi nega rischi, iter più celeri, salvo il nuovo piano regolatore. Iter più celeri perché la burocrazia viene facilitata di molto, non ci saranno più quelle pratiche farraginose che conducono l'attività urbanistica per molti anni, ci sono molte approvazioni che devono essere fatte, comune, provincia, regione, insomma è una cosa molto complessa. Dopo 30 anni dunque la Regione Marche ha deciso di mettere in mano la legge sull'Urbanistica e ieri l'assessore competente, il fanese Stefano Aguzzi, e questa vetrina è stata un po' interpretata dai giornali, lo affermano appunto come un lancio della candidatura di Stefano Aguzzi a prossimo sindaco di Fano. E se un po' in evidenza questa situazione viene posto appunto sotto i riflettori. Un'investitura sotto traccia che lancerebbe Aguzzi come possibile candidato sindaco del centro-destra di Fano, c'è un punto interrogativo messo sul giornale, però insomma tutti l'hanno percepita questa situazione. Comunque i nuovi criteri pianificatori quali sono? La nuova norma si compone di 36 articoli che mirano a definire una disciplina unitaria. Ebbene, che cosa c'è di novità? Si tratta di rivedere una gestione del territorio in modo che sia in grado di orientare e coordinare gli enti locali e i loro piani, favorendo un minore consumo di suolo, soprattutto quindi non più un'edilizia estensiva, ma un'edilizia che si riferisce alla rigenerazione di quello che è già costruito. E poi c'è il riuso appunto del costruito, lo sviluppo sostenibile. E a sua volta Aquaroli ha confermato che la proposta di legge cerca un equilibrio tra tutela dell'aspetto paesaggistico e sviluppo economico. Quindi come in titola poi vedremo il resto del carlino, una legge più green rispetto a quella già esistente. Vediamo anche le altre notizie. A fondo pagina si dà notizia del congresso di azione che si svolge oggi al TAG Hotel. Congresso di azione, Guidi sarà il segretario. Una mozione unitaria per il rinnovo anche del direttivo. L'appuntamento è alle 17 di oggi al TAG Hotel di Fano in via Enaudi. Si terrà infatti lì il secondo congresso provinciale di azione. Massimo Guidi, più volte assessore e ex vicesindaco di Urbino, è il candidato unitario alla segreteria provinciale. L'assemblea oggi eleggerà anche il consiglio direttivo provinciale. L'attuale segretario provinciale, Simone Favarelli, è destinato a diventare il presidente di azione. Questi sono i candidati, ma ovviamente l'appuntamento permetterà ai convenuti di parlare di azione politica, soprattutto anche in previsione alle alleanze per le prossime elezioni amministrative. Una iniziativa interessante che interessa tutti gli studenti che frequentano la terza media è stata presentata ieri a Fano nella sala ipogea della Mediateca Montanari. Scegliere la scuola superiore in campo con Fano Orienta. L'assessore ai servizi educativi, Samuele Mascarin, ha presentato le iniziative per i ragazzi della terza media che devono scegliere il loro indirizzo di studi, scegliendo appunto quale scuola superiore frequentare. Ed è un appuntamento importante perché non ci saranno più le singole scuole che organizzeranno gli open, così come si definivano in passato questi appuntamenti, ma tutte converranno appunto alla Memo, dove nelle varie stanze un ragazzo potrà apprendere tutte le caratteristiche delle diverse scuole. Tutto questo il 25 novembre prossimo, dalle 15 alle 19. E poi sarà disponibile in questo caso, dato che appunto l'itinerario è piuttosto complesso, numeroso, sarà disponibile anche la Pinacoteca San Domenico. L'orientamento scolastico rappresenta uno strumento imprescindibile di promozione del benessere degli studenti, ma anche delle loro famiglie. E questo evento, ha detto Mascarin, vuole rappresentare un'occasione per evidenziare le potenzialità e la ricca, variegata offerta delle scuole fanesi. E poi ci saranno anche degli appuntamenti specifici, che adesso non vi sto qui a elencare, ma che sono ricordati e menzionati in questo articolo. Passiamo alla cronaca. Passiamo alla cronaca e vediamo quello che è accaduto ieri. Sono stati diversi incidenti stradali e anche un parapiglia. Fanno a botte in strada per un parcheggio. Vedete come l'irascibilità di certe persone emerge, in occasione anche di futili motivi, ma questo può produrre anche gravi conseguenze. Due uomini si sono avvinghiati per poi cadere a terra uno sull'altro. È accaduto ieri intorno alle 17.15, mentre litigavano per una questione di parcheggio, a San Lazzaro di Fano, in Viale della Repubblica. Ebbene, la cosa è stata notata da un carabiniere, da un carabiniere che in quel momento stava passando, il quale ha chiamato la pattuglia, e appunto i due sono stati divisi. Risulta che i due uomini, entrambi residenti a Fano, originarie però di regioni del sud, avevano cominciato a litigare perché uno di due aveva detto delle parole alla moglie e al figlio dell'uomo che era usceso un attimo dalla macchina. Questo tutto mi ha sentito le parole di quello, poi è venuto in strada ed è iniziata la collutazione. L'episodio ha attirato molta attenzione nel quartiere, perché poi le grida, le voci sono state piuttosto forti. E veniamo agli incidenti stradali. Ne sono accaduti diversi nella giornata di ieri a Fano. In via Pisacane è rimasto ferito un uomo, non grave, ferite di lieve entità, un uomo di 77 anni, un fanese, che transitava verso Ancona, in via Pisacane, a bordo di un mezzo, per le persone con difficoltà motorie. L'anziano è stato trasportato con una ambulanza, in codice verde, al pronto soccorso dell'ospedale di Fano. Nello scontro poi è rimasto ferito anche l'altro conducente. Era il conducente di un'Opel Astra, un urbinate di 25 anni, che avrebbe urtato il mezzo del 77enne fanese, aprendo la portiera anteriore. Un altro incidente si è verificato nell'incrocio tra Viale Piceno e Via delle Brecce. In questo caso, intorno alle 18, un pedone è stato urtato da una Peugeot 3.008. Lievi le ferite, che comunque hanno consigliato il trasporto precauzionale in ambulanza, al pronto soccorso dell'ospedale di Fano. Ebbene, tutti questi incidenti sono stati poi rilevati da parte della Polizia Stradale, che ha eseguito tutti i rilievi necessari. Servono intanto le agevolazioni per i veicoli elettrici. Le chiede il gruppo consigliare della Lega, che in Consiglio Comunale ha presentato una proposta. La Lega chiede soste gratis e zero spese per i permessi per tutti coloro che usano una forza di alimentazione diversa da quella della benzina e del diesel. Ed ora, passiamo alla Valmetauro. Vediamo che a Fossombrone sono stati finanziati 250 nuovi loculi al cimitero e di qui è stato rimosso anche il degrado e l'incuria. Tutto questo è stato inaugurato dal vice sindaco Chiara Billi la ristrutturazione del cimitero di Montalto Tarugo. Sono stati dunque ultimati i lavori di ristrutturazione di questa struttura per un importo di 115 mila euro. E poi ad Acqualagna in occasione ormai siamo alle ultime battute della Fiera del Tartufo sono giunti gli auguri del presidente Mattarella a cui sono stati spediti dei bei tartufi. Ebbene, veramente Acqualagna quest'anno è stata sulla cresta dell'onda è stata proprio sotto le luci della ribalta grazie alla visita del presidente Giorgia Meloni ed ora anche gli auguri del presidente Mattarella quindi tutte le massime cariche dello Stato hanno puntato la loro attenzione su questo piccolo centro ma veramente una risorsa importante di carattere economico nella catena degli Appennini e nella nostra provincia. Il capo dello Stato ringrazia per l'omaggio dei tartufi oggi e domani ci sarà il gran finale con tante altre iniziative. E passiamo a Isola del Piano a Isola del Piano si parla sempre io oserei dire di agricoltura biologica e grazie anche al Consorzio il Consorzio si rinnovano iniziative su iniziative biologico marchio di qualità. Tre incontri con i distributori sono le iniziative del Consorzio a Montebello per fare conoscere le produzioni agricole. E qua vediamo la foto del Presidente del Consorzio Francesco Toriani uno dei massimi più convinti ambasciatori della coltivazione biologica. Un italiano su due non riconosce il logo ufficiale del Cibi Bio e questo incentiva ancora di più il Consorzio per un'opera di promozione. Quello con la fogliolina verde è un simbolo inflazionato tra le corsie dei mercati e supermercati per il consumatore medio diventa dunque sempre più difficile destreggiarsi tra un prodotto biologico e uno sostenibile o ecologico e c'è una profonda differenza. Andiamo a Senigallia. A Senigallia arrivano gli americani arrivano gli americani che parteciperanno all'European Travel Agent Forum in cui i maggiori tour operator americani incontreranno i buyer europei sono queste espressioni un po' inglesi insomma incontreranno gli operatori turistici europei c'è un incontro tra America e Europa e avverrà a Senigallia ed ecco in occasione di questo importante summit che cosa fa l'amministrazione comunale l'amministrazione comunale rende ancora più bella la città accendendo con un po' di anticipo le luci natalizie le luminarie accese in anticipo a da oggi il forum internazionale degli agenti turistici di cui vi abbiamo detto e a sorpresa è stata addobbata anche la rotonda la rotonda è bella di per se stessa ma è ancora più bella con questa suggestiva illuminazione che poi si protrarrà appunto per tutto il mese fino a fino a dopo Natale ed ora diamo un'occhiata anche alle notizie di Pesaro l'apertura è dedicata dal ponte De Sabbata eccolo qua il Cavalcaferrovia per il Cavalcaferrovia è la fase più complessa chiusure al giro di Boa ebbene ci sono ancora delle giornate di chiusura per le opere di manutenzione che si stanno eseguendo su questo importante nodo del traffico del capoluogo il ponte De Sabbata continuerà ad essere chiuso dalle 23 alle 5 quindi in ora notturna il 12 il 13 il 14 il 15 il 16 il 19 il 20 il 21 il 22 il 23 e il 25 novembre lo vediamo qui in questa tabella tra febbraio e marzo del 2024 si ripristinerà completamente la circolazione a 4 corsie ci vuole ancora un po' di tempo il costo complessivo di questa operazione importante sarà di 3 milioni di euro interamente finanziata da fondi ministeriali intanto nel 2019 c'è stato un primo intervento da 313 mila euro che comunque non ha risolto la situazione ecco perché si è dovuto eseguire un progetto più importante che consentirà la stabilità di questa struttura per molti molti anni le nuove antenne fuori da San Bartolo una lettera aperta firma per la salvaguardia del parco vedete come disturba la visione dell'ambiente questa antenna che si eleva di molto sopra questa chiesetta che si inquadra bellissimo nel paesaggio di Fiorenzuola di Focara ed è stato programmato ancora il termine ultimo per presentare all'ufficio ambiente del comune le osservazioni al nuovo regolamento comunale per lo sviluppo della telefonia mobile la nuova scadenza è stata fissata domenica 12 dicembre e intanto da Catabrighe è stata consegnata ieri mattina una nuova lettera aperta con allegata la lista di 734 residenti che evidenziano come questa antenna deve essere rimossa deve essere spostata compito non sempre facile anche per le amministrazioni comunali vediamo ora le altre pagine e parliamo di una riunione degli industriali che si svolta nella giornata di ieri e che ha visto la comparsa di Francesco Merloni che con i suoi 98 anni conserva intatta la sua lucidità e ha dato una bella lezione agli operatori Merloni le piccole e medie imprese devono accorparsi chi è piccolo rischia di scomparire ecco perché queste piccole imprese è difficile che riescono a sopravvivere in questo marasma di alternanze di crisi di rinascite e poi di nuove crisi mentre nelle marche l'imprenditore vede difficoltà a unirsi al Confindustria il report della fondazione ebbene questa iniziativa si è svolta ieri a Palazzo Ciacchi e c'è stato il commento all'analisi economica della fondazione Aristide Merloni oltre a Francesco Merloni è intervenuta anche la presidente dell'associazione degli industriali Alessandra Baronciani che ha guardato oltre la classifica proiettandosi al 2024 ebbene qual è in sintesi quello che ha detto la Baronciani si registra un calo dovuto all'inflazione ai tassi bancari elevati al calo del poter acquisto e alle due guerre in atto il potere di acquisto insomma delle persone delle famiglie è in calo e quindi questo si ripercuote anche nelle produzioni delle ditte oggi oggi le piccole dimensioni delle aziende non permettano di investire in ricerca e sviluppo per questo occorre unirsi e collaborare con le università il futuro è quello appunto della ricerca è quello di poter adeguarsi ancora di più tecnologie abbiamo ancora tutta la ristrutturazione di carattere digitale chi non si aggiorna purtroppo rimane al palo questo è l'esame che è emerso dalla riunione torna il cardinale Bagnasco a Pesaro Bagnasco è stato vescovo della città e proprio in questa città è stato eletto come vescovo e qui celebra i suoi 25 anni da vescovo nell'anniversario del suo episcopato sarà a Pesaro celebrerà una messa in cattedrale il 26 novembre prossimo era il 1998 quando Angelo Bagnasco che ora ha 80 anni è stato eletto arcivesco appunto del capoluogo pesarese un episodio che una una fase diciamo così della sua vita che Bagnasco non ha dimenticato ed ecco perché torna appunto nel capoluogo ci starà due giorni sabato e 25 novembre e anche domenica quando sua eminenza terrà al cinema Loreto una lezione sul patto educativo globale lanciato da Papa Francesco nel 2019 e poi domenica 26 sarà la celebrazione della ricorrenza con la messa in cattedrale alle ore 11.30 sarà ufficiata dal porporato insieme al vescovo attuale della della città di Pesaro Sandro Salvucci e veniamo a questo episodio di cronaca un episodio di cronaca un duplice anzi episodio di cronaca che ha visto i carabinieri salvare due persone erano due persone che tentavano di togliersi la vita sono due persone diverse non si conoscevano una con l'altra erano delle decisioni indipendenti ma coincidenza voluto che si verificassero nello stesso giorno ebbene il primo è accaduto giovedì sera quando un ragazzo di 25 anni pesarese è stato visto da alcuni passanti sul parapetto del ponte sul ponte sul foglia a Portarimini ebbene era palese la sua intenzione di gettarsi di sotto subito sono arrivati i carabinieri hanno cominciato a parlare con il giovane quest'ultimo ha evidenziato problemi legati alla disoccupazione e al fatto che la ragazza lo aveva lasciato ebbene con il parlare tra i carabinieri e il giovane alla fine le forze dell'ordine sono riusciti a tirarlo fuori dalla posizione di pericolo e dunque a portarlo in salvo è stato affidato poi alle cure del 118 un altro caso è venuto ieri alle 6.30 a distanza di poche ore un altro tentativo di gesto autolesivo una donna di 64 anni casalinga ricoverata nel reparto di ginecologia dell'ospedale di Pesaro per un intervento ha scavalcato la finestra si è rampicata su una balaustra in metallo dove passano i cavi della tensione elettrica e qui minacciava di buttarsi di sotto immediato anche in questo caso è stato l'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco che hanno preparato tutte le misure di sicurezza e poi hanno cominciato il colloquio il dialogo con la donna che alla fine è stata tratta in salvo ebbene due episodi che meritano di essere rilevati per la tempestività e soprattutto per il metodo con cui le forze dell'ordine hanno risolto il problema vediamo anche la pagina di Urbino Erdis Magrini non si tocca la presidente di Erdis Magrini ebbene ci sono problemi per quanto riguarda notate anche delle osservazioni per quanto riguarda la posizione di Maura Magrini ma nonostante tutto il rumore politico in merito all'avvio del procedimento di decadenza di questo di questo di questo ruolo ebbene la Magrini è sempre in sella è sempre dunque al posto di comando a lei nei suoi confronti c'è anche la difesa del senatore Londè che difende l'operato sia della presidente che l'operato globale dell'ente venite in farmacia per il test sul diabete è importante questo articolo di fondopagina perché martedì prossimo 14 novembre ricorre la giornata mondiale del diabete una malattia subdola che non evidenzia segni quindi non si manifesta ma che però corrode e agisce all'interno dell'organismo umano creando dei grossi problemi quindi è importante fare il test per poi procedere di conseguenza a questo punto passiamo ad esaminare il resto del Carlino dove si apre con il conto alla rovescia per la mostra sul Perugino di cui abbiamo già parlato tante volte tornerà in città al massimo entro due settimane la grande pala del Durante cosiddetta dal suo committente una pala bellissima dipinta da Pietro Vannucci detto il Perugino forse con la collaborazione del piccolo Raffaello che era suo allievo e poi si parla di un'iniziativa che ricorre a Fano ormai da 35 anni sapori e aromi d'autunno che si svolgerà in due domeniche alla fine di questo mese è una veramente Kermesse una sinfonia dei sapori perché autunno è una stagione molto prolifica di prodotti di grande qualità come quelli che si producono nel territorio fanese non dico che c'è perché ce ne saranno proprio veramente aiesa tra l'orticultura la frutticultura l'agricoltura insomma c'è veramente di che sbizzarrirsi ma ci sono anche tante iniziative di attrazione che inizieranno appunto alle ore 10 della domenica 19 mi sembra 19 sì di novembre l'altra è il 26 e beh ci sarà di che sbizzarrirci ed è anche una meta turistica importante oltre a quella per fare spese perché agirarsi poi al Codma è molto interessante ci saranno anche tante iniziative collaterali di carattere sanitario ci saranno giochi per i bambini di carattere sportivo di carattere ci saranno poi anche tutte le occasioni per degustare i prodotti e ieri l'iniziativa è stata presentata dagli organizzatori dobbiamo procedere in fretta perché abbiamo al tempo pochissimo a disposizione anche il Carlino parla della legge urbanistica e poi in troppi sbagliano a scegliere la scuola è l'articolo che riguarda Fano Oriente Orienta di cui abbiamo già detto e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa come sempre vi do appuntamento ormai a lunedì prossimo alle ore 7 intanto vi auguro un buon weekend e dunque a risentirci